Eppure caleranno. La casa era divenuta stretta e, da tempo, Don Bosco stava meditando di comprare la casa vicina di Francesco Pinardi per poter ampliare l'oratorio, ma questi pretendeva una somma assai rilevante. Caso volle che la sera del 19 febbraio 1851, nell'osteria di fronte a detta casa, succedesse una rissa violentissima con feriti e contusi. Il Pinardi, stanco di assistere a tali scene, si portò tosto da Don Bosco e gli disse, Don Bosco, è una cosa che non va più, è una continua disperazione, risse e sempre risse. Se dunque vuol comprare la mia casa, eccomi disposto a cedergliela. E per quanto? Per quello che le ho detto, 80.000. Non posso fare offerte? Perché? Perché il prezzo è esagerato. Mi rimetto a lei. Me la date per il suo valore? Parola d'onore. Sentite signore, io l'ho fatta stimare e mi si assicurò che, nello stato attuale, vale dalle 26 alle 28.000. Io ve ne offro 30.000, va bene? Sia pure, ma pagherai in contanti? Pagherò in contanti. Quando faremo il contratto? Quando vi piacerà? Un'altra settimana? Come volete. Si strinsero la mano e si lasciarono. Ma dove prendere i denari per pagarla? Ecco il pensiero assillante di Don Bosco in quei giorni. Ricordò in buon punto che il venerabile Antonio Rosmini gli aveva promesso 20.000 lire, ma 20 non erano 30, e le altre 10? A quelle pensò ancora la stessa provvedenza. Ecco d'improvviso capitare all'oratorio il suo amico e consigliere Don Caffasso, il quale, facendosi l'incontro con festante sorriso, quasi che i santi si leggessero in cuore, e gli disse «Sono venuto a portarti una generosa offerta. Sono 10.000 lire che la contessa Casazza ti manda per le tue opere». «Teo, grazie!» esclamò Don Bosco. «Sono proprio il caccio sui maccheroni». Gli raccontò il contratto della casa Pinardi, poi si recò di filato da questi a dirgli «Quando volete che facciamo l'istrumento? I denari sono pronti e tutti in oro». La parola suzzicò il signor Pinardi, che accettò di andare subito dal notaio Giuseppe Cotta. Al momento di firmare, Don Bosco tirò fuori il suo sacchettino e spiattellò, l'una dopo l'altra, le 30.000 lire d'oro. «Ma le spese per il contratto? E il regalo promesso alla signora del Pinardi? Restavano 3.500 lire da sborsare». Don Bosco, che non vi aveva pensato, restò un istante perplesso, ma il suo buon umorismo cambiò subito la momentanea confusione e inamenità. Prese a scuotere il sacchetto che ancora teneva in mano, dicendo «Spero che caleranno. Devono calare». Notaio e testimone scoppiarono in una risata ed il signor Cotta, grande benefattore di Don Bosco, esclamò «Vuol dire che le 3.500 lire le aggiungerò io, va bene così?». «Vedete un po' se sono calate», continuò Don Bosco. «Oh, lo sapevo che la provvidenza non mi avrebbe lasciato negli imbrogli».